L'opposizione alla richiesta di archiviazione fatta dall'avvocato di parte non ha trovato accoglimento e oggi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona ha definitivamente assolto i due medici, un ginecologo e un medico vaccinatore dell'ospedale di Sulmona, che nel giugno del 2021 sottoposero a vaccino trivalente una trentenne incinta all'ottavo mese e mezzo di gravidanza che, dopo pochi giorni dal vaccino, perse il bambino. La donna, di origine straniera ma residente a Pratola Peligna, aveva presentato una denuncia querela perché nel bugiardino del Triaxis, questo è il nome del vaccino, era chiaramente scritto che non deve essere somministrato a chi ha ricevuto in modo incompleto o non ha ricevuto affatto una vaccinazione primaria con tossoidi, difteritici e tetanici. Il problema di fondo è che della donna trasferitasi a Pratola Peligna nel 2019 non vi era alcuna storia clinica nell'archivio dell'ASL, ne era stato possibile reperirla nel suo paese di origine. Insomma, i medici non sapevano né potevano sapere se il soggetto da vaccinare fosse tra i casi in cui il Triaxis non è indicato. La procura e poi il giudice oggi hanno presa per buona la perizia di parte, secondo cui non esistono controindicazioni e all'utilizzo del booster, ovvero del Triaxis, anche all'ottavo mese di gravidanza, in quanto lo stesso è composto dagli stessi tossoidi per tetano, difterite e per tosse che rientrano nelle indicazioni ministeriali per la vaccinazione. L'avvocato di parte aveva chiesto di acquisire invece il rapporto vaccini-AIFA 2021 e di incaricare uno specialista di malattie infettive per svolgere una perizia specifica al fine di accertare l'eventuale legame tra il parto prematuro e l'infiammazione delle membrane fetali accertate in sede di esame necrologico sulla placenta. I giudici però hanno ritenuto superflua l'indagine e hanno così deciso di prosciogliere definitivamente i due medici.